Una persona di famiglia che ha dettato un po' tutta la mia vita, però oggi non penso al domani. Aveva un animo buono, gentile, generoso e faceva di tutto per far stare bene chi restava vicino. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie e anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Addio, signor.